si chiude con l'intervento del Premier. L'obiettivo è fare terra bruciata attorno ai mafiosi, ha detto Conte. La lotta alla mafia è una battaglia di libertà contro chi soffoca le coscienze, contro chi vuole confondere la verità con la menzogna. Una battaglia quindi contro la prepotenza, contro i soprusi, contro la politica deviata.